Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi torniamo a provare ad indovinare i giochi, cosa che facciamo tipo 6 mesi fa Ma lo facciamo dalle mappe dei giochi, quindi noi vedremo la mappa di un gioco e dovremo indovinare tra 3 possibili giochi con quello corretto Difficoltà facile, difficoltà media, difficoltà difficile, fatto la signora editor partiamo subito Chiarissimo, andiamo Allora, qui abbiamo Skyrim, Tomb Raider e Assassin's Creed 3 Ok, abbiamo la mappa, questa è molto molto facile, io spero che tu la sappia È una sfida o è un collab oggi? Penso un collab Io però è una sfida, perché è meglio che ho una vittoria facile se hai problemi con questa È una sfida, è una sfida Io non mi ricordo questi dettagli, mi stai chiedendo troppo Sei pronta? Io ho la... no 3, 2, 1, Skyrim Ok Mi sembrava il più plausibile dei nomi, no? Anche dallo stile della mappa Esatto, esatto, esatto Allora, è Skyrim, perfetto Andiamo alla prossima No Allora, Saints Row, Grand Theft Auto 5 e GTA San Andreas Ok Cioè ce l'hai? Sì Serio? Certo Su, su, su Sì, siamo a difficoltà easy, poi capisco che dopo entro in crisi, ma adesso... Io la sparo 3, 2, 1, GTA San Andreas Ok, perfetto Anche qui ad esclusione Quindi Allora Io vado ad esclusione pure qua Cioè penso di avercela Perché dico gli altri due non può essere secondo me Ok Quindi ne rimane uno 3, 2, 1, Far Cry 5 Perché World of Warcraft non è E non è neanche quella idea Esatto Sono andato ad esclusione perché non ho giocato quel Far Cry Quindi era un attimo più rischioso Non è la più pallida idea Ok 3, 2, 1, GTA 3 Ho sparato Perché sai cosa ho detto? Non può essere di nuovo GTA Non può essere Non può essere Ma la costruzione della mappa Esatto Avevo in mente GTA Però ho detto non può essere quella la risposta giusta Per due volte di fila invece lo è stato Oh Ok No io non ci sono, aiutami Era una collab No 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 è una sfida Si no non è una sfida Sto stracciando Dai non lo so No questa non sono sicura Allora io Left 4 Dead 2 l'ho giocato Un pochettino anche Counter Strike Call of Duty Quello lì no Ok Perché non mi gioco quasi mai Gli spara tutto Quindi che ne so Pronta? Io la sparo Ok 3, 2, 1 Call of Duty Non lo sapevo Hai sparato? No 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 Volevo dire Counter Strike in realtà No allora Counter Strike siccome non è È Counter Strike Però non l'ho detto Quindi non è che vale Però ho pensato Zero punti entrambi No sinceramente Non apro la Io non apro la mappa Su Counter Strike Questo gioco Cioè entro dentro Sparo a Muzzo E arrivo a Cegra È per quello che non te le ricordi Vabbè 3, 2, 1 Fortnite Almeno questa Questa era veramente easy E di nuovo basta Vabbè facilissima Si vai 3, 2, 1 Vai City Ok Perfetto E Daylight l'ho giocato E almeno la mappa non era così Stavano chiamando al telefono Allora Allora Ok Vai easy Easy Sì Ce l'hai La sparo No non ce l'ho 3 Vai 2, 1 Far Cry The Witcher The Witcher Sì Guarda Questi sono i cartelli Di quando fai il movimento rapido Le chest che si trovano Eh no Qua Qui dovevi riconoscerlo Che dovevi proprio riconoscerlo Io The Witcher L'ho comprato E l'ho giocato mezz'ora Ok Perché poi non l'ho mai finito Quindi come faccio a ricordarmi Non lo so Tu l'hai giocato qualche ora E l'ho giocato letteralmente mezz'ora Ti sto assaltando Cioè tu tipo Sei stata spalmata E non li ho giocati Capisci Così Ma come tu allora Li stai sparando a caso Io non li ho giocati Io li sto sparando a caso Vai Guarda Su tutti tranne uno L'ho sicurissimo Allora Il problema è che Io di questi tre giochi Io ne ho giocato uno Ho toccato a malapena Cyberpunk Perché non mi è piaciuto Io ne ho giocato uno Gli altri non li ho mai Nel capito Spider-Man l'ho finito E Watch Dogs Legion Non l'ho giocato Però so quale dei tre È Ok 3 2 1 Watch Dogs Ma l'ho sparata Non la so Io ragazzi Tra questi tre ho giocato È finito Sono Spider-Man Gli altri due Neanche ce li ho Mai aperti Quindi boh Allora Easy Allora Golf of Mexico Sapete cos'è il problema di fare È che pure è scarsa Con le cose geografiche Quindi è una one book combo terrificante Io ho anche capito Se gioca con i giochi Non le memorizzo queste cose No aspetta Ci sono squali Eh Ci provo vai 3 2 1 Assassin's Creed Far Cry Scusami Black Flag È stato il gioco della saga Con le navi da pirata E tutto quanto Io posso confessare Una cosa Eh Non ho mai giocato In Assassin's Creed In tutta la vita Oh va bene Non l'ho mai giocato Ma io questo non l'ho giocato Ma comunque era facile Perché Far Cry Primal Era in prestoria No ma io Vedi ho visto gli squali E quindi ho detto Probabilmente È ambientato Qua c'è gli altri squali Qua Allora E questa è complicatuccia Perché Posso dire che anche questi Non li ho mai giocati Io sono Un multiplayer gamer Ok Io gioco tantissimo I giochi multiplayer Ma molto poco I single player Quindi le mappe Dovevano essere I giochi multiplayer 3 No aspetta Aspetta Ci devo Devo È inutile Un attimo Guarda ti dico solo È uno dei due Far Cry Ok Io non so Quale dei due Non sono sicuro 3 2 1 Far Cry 3 Perché è più vecchia la mappa E mi sembra di grafica Vecchia Eh fate qua Dico mi sembra di grafica vecchia Infatti 4 Bene Bene Io ho giocato il 3 Ma non il 4 Ma non ricordo la mappa a priori Ok 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 Io del light Ho giocato il 2 Ma non l'1 Non hai giocato l'1 Non il 2 Al contrario Ah giusto Il 2 è appena uscito Mi dimentico Ma non mi ricordo Tutte le cose dei giochi Ma non era questa La mappa di del light Credo 2 1 Cry Cry Quella roba lì Perché anche fallout 4 L'ho provato Ma non finito Stavo per dire L'ho provato Ma non finito Ma non mi sembra quella La mappa Le ultime parole famose Dezoomata Probabilmente così Io ho giocato poco Anche io Anche io l'ho giocato tipo 2-3 orette Quindi chi si ricorda Credo che Vabbè Io ci provo Io ci provo Allora spariamo No aspetta No Doviamo fare Indovina le varie mappe di World of Warcraft Esatto Lì mi metteva da tutto il mondo Le varie zone di World of Warcraft O di tutti gli M&A Dobbiamo spararla Dobbiamo spararla Non la so La devo sparare anch'io questa Non ne ho idea 3 2 1 Per me è Batman Ok Ha sentimento proprio No il lower tire Mi ha dato Quel feeling di Arkham Lo stile Capito Vabbè Easissima 3 2 1 Kingdom Come Per forza È troppo medievale la mappa È per forza Dai Esatto Ragazzi io non so Aspetta Fortune City Vabbè Ce l'ho No aspetta Da cosa l'hai capito Da cosa l'hai capito Da il tuo cervello Non può essere secondo me Call of Duty Ok Cos'è Driver 2 Non lo conosco Io voglio multiplayer Ne multiplayer Così sembro ignorante Il fatto di videogiochi Non è giusto 3 E ho i giochi 2 1 Driver 2 T'ho battuto Così impari a fare lo sbruffone Non è che cazzo lo sbruffone Che Non faccio un pianisteo Mi sapeva P-mappa adatta a Dead Rising Così Che gioco è Dead Rising Un gioco di 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 picchiarsi Vedi che si stanno picchiando No è un gioco dove Gli zombie muovi E infatti mi sembravano A me per niente Sembra molto più una mappa Per giurare I centri commerciali dove ti nascondi Per gli zombie No che è sta roba Ok Ok No aspetta Così Aspetta Non aspetto Vai 3 2 1 Mad Max Mad Max Non l'ho gioca Ma nien che io Ma L'ambientazione La riconosco Gli MMO Dove sono Vedetemi Pokémon Almeno Lo riconosco Ok Ultima difficoltà Quella difficile Io sto andando almeno decente A fare una schichifezza Vabbè Facilissima 3 2 1 GTA 4 Facilissimo Comunque le hanno copiata Posso dire che hanno copiato lo stile È un plagio questo Tra l'altro io in Need for Speed Li ho più o meno giocati tutti Ma È un plagio GTA Cioè ve lo dico tranquillamente E adesso ho paura perché City of Empire Bay E il problema È che questi giochi Sono di Rockstar Guarda infatti Quindi si possono plagiare tranquillamente Secondo me non è GTA stavolta No non lo è Non lo è 3 2 1 E l'emore Una possibilità subito No sono andato con un po' di logica Sono È troppo B Allora se hanno però copiato brutalmente quella di GTA Ecco vedi di questi Io penso di aver giocato tutti e tre Ma ero piccolo Cioè ero lì Faccio il tamarrino Mi faccio la modifica dell'auto Con la marmittona E leone E sgommavo Non mi ricordo le mappe E i giochi specifici Ma qui a prescindere Io anche di giochi che gioco tanto Non mi ricordo lo stesso le mappe Quindi 3 2 1 Carbon Questo Questo Non so neanche cosa c'è scritto Underground 2 Sì 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 quello Il primo Perfetto Perfetto Most wanted Ok Va bene grazie Allora Posso ritirarmi da questa sfida Io non ce la faccio più Credo di saperla A GTA 5 non è Esatto 3 2 1 Forza Horizon 4 Forza cosa Non so come si chiede Io non li trovo Forza Horizon Mettimi la mappa di Animal Crossing Comunque è quello Vediamo chi vince E basta Ma sono tutti simili Poi come faccio a indovinarlo E quello è il casino È molto vecchio E Underground 2 era molto vecchio Ma sicuramente Io dico Underground 2 Perché l'ho detto anche prima Vai 3 2 1 Midnight Los Angeles Club Eh vedi che mi ha portato bene Complimenti bravo Grazie Ok Eh ah vabbè dai Allora 3 2 1 Player unknown Battlegrounds Pubg Pubg Ho detto Ma per l'ho sbagliato Sta qua però Ok Cosa ho detto Mettimi giochi multiplayer Vedi che io le so Allora Ho un dubbio Io forse ce l'ho 3 Sembra Scusa un attimo Guarda i colori La mappa di Fortnite Cioè 3 2 1 Già scala squat Eh ne ero quasi sicura Io ero sicuro non posso far cry Però mi è venuto il dubbio perché è tutto spagnolo Allora GTA 5 non è Vabbè facilissima dai 3 2 1 Assassin's Creed Sì 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 Se guardi le icone Sono quelle per fare i tuzzi Non mi sembra da Tomb Raider Credo Eh infatti Credo di aver vinto È stato difficilissimo Si vede che giochiamo pochi single player Eh però Sì allora i single player Li se ne sono molto di più Mentre invece i giochi multiplayer Li gioco quasi tutti Quindi ho molta più conoscenza su quelli Eh vabbè ci sta dai Infatti ci sta per recomandata Giocheremo Wars Legacy però Quello Quello non si schifa Sì l'abbiamo già preacquistato Già preacquistato In realtà quando esce questo video Sarà già uscito a Wars Non lo porteremo al canale Ma ce lo giochiamo per i fatti nostri Noi ci fermiamo E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao Aia che male